Buonasera e ben trovati al G News Piceno. Apriamo con l'omicidio Sarchè. Si è aperto a macerata il processo contro Giuseppe e Salvatore Farina accusati dell'omicidio del commerciante di pesce San Benedettese Sarchè avvenuto nel giugno del 2014. Con loro è imputato anche Domenico Torrisi per favoreggiamento perché avrebbe aiutato a cancellare le tracce del delitto. La moglie e i figli di Sarchè si sono costituiti parte civile, accettata la costituzione di parte civile dell'Associazione Italia Libera. In alcune dichiarazioni spontanee Giuseppe Farina ha chiesto pubblicamente perdono ai familiari di Sarchè sostenendo che a volte viene colto da un'ira incontrollabile. Possono chiedere il perdono anche in ginocchio. A noi non interessa, ha commentato la figlia di Sarchè Jennifer durante una pausa dell'udienza. Non li perdonerò mai, ha dichiarato. La prossima udienza è stata fissata per il 14 di ottobre. Condannato a tre anni di carcere, un settantenne ascolano accusato di violenza sessuale su una ragazza di meno di 14 anni. Il fatto risale alla primavera del 2012, quando l'uomo, un amico di famiglia, aveva convinto la ragazzina a salire sulla sua auto e in seguito aveva tentato un approccio sessuale. Il collegio del Tribunale di Ascoli, presieduto da Emilio Pocci, ha stabilito una provvisionale di 10.000 euro per la parte civile con il risarcimento da quantificarsi in separata sede. Sono in netto miglioramento le condizioni del minore colpito da meningite batterica. Per fortuna il ragazzo che nel pomeriggio di lunedì è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona ha risposto molto bene alle terapie e dunque si sarebbe lasciato il peggio alle spalle. Nel frattempo nell'ospedale civile di San Benedetto fanno sapere che il protocollo seguito per il trasferimento del piccolo ad Ancona visti i sintomi era assolutamente necessario, anche se non sarebbe ancora stata confermata l'origine batterica della meningite. Ancora cronaca, alcuni feriti lievi e tanti disagi al traffico in una delle gallerie del tratto autostradale tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto con circa 3 km di coda nonostante l'intervento della polizia autostradale che ha corsa sul posto. L'incidente si è verificato in mattinata lungo la carreggiata sud della 14 e questo ha riacceso la polemica per i cantieri aperti in piena stagione turistica. Secondo molti automobilisti ormai da mesi questo tratto autostradale è quotidianamente interessato da lavori con corsie uniche, code e tanti disagi. Restiamo a San Benedetto, blackout totale in comune, linee telefoniche, internet, ascensore, sistema idrico, elettricità, tutto è andato in tilt stamani. Vediamo. Siamo qui al comune di San Benedetto dove questa mattina intorno a mezzogiorno un blackout ha riguardo a tutta l'intera struttura comunale principale qui in via De Gasperi. Sono saltate le linee telefoniche, le linee internet, il sistema idrico e anche alcune persone sono rimaste chiuse dentro l'ascensore e poi sono state liberate. Il trasformatore danneggiato in servizio da molti anni è stato messo fuori uso dalla concomitanza di sovraccariche e persistenti temperature elevate. I tecnici comunali si sono subito attivati per trovare una soluzione. È stato reperito un gruppo elettrogeno che dovrà assicurare la fornitura di elettricità in attesa dell'arrivo e della messa in funzione del nuovo trasformatore che nel frattempo rogherà 300 megawatt a fronte dei 300 richiesti. Ci vorranno due giorni per tornare alla normalità e intanto sono saltate le connessioni internet, le rette telefoniche e anche il rifornimento idrico all'interno della struttura comunale. Decine di dipendenti comunali sono scesi fuori in attesa che la situazione si sbloccasse e tornasse alla normalità ma alla fine è stato deciso che nessuno sarebbe rientrato al lavoro visto che il problema ancora non è stato risolto. Due ragazzi che stanno frequentando un tirocinio proprio nel comune di San Benedetto sono rimasti bloccati dentro l'ascensore e sono stati liberati dopo una decina di minuti. Per loro solo tanto spavento e niente più. Anche una signora è rimasta intrappolata in ascensore dell'edificio che ospita la biblioteca comunale e anche per lei nessun problema. E restiamo a San Benedetto. Il 23 luglio il Consiglio Comunale sarà impegnato nella discussione della manovra di bilancio. L'amministrazione sostiene che nonostante la riduzione dei trasferimenti dallo Stato centrale tutti i servizi essenziali sono stati garantiti. Previsto inoltre un aumento dei controlli nel contrasto all'evasione ma ascoltiamo il Vice Sindaco Fanini. Vediamo. Il bilancio del 2015-2017 è stato già deliberato in giunta il 3 luglio e il 23 approderà in Consiglio. Diciamo che è un bilancio virtuoso nonostante i tagli dovuti dai trasferimenti erariali da parte del Governo, nonostante un periodo di crisi economica veramente difficile i conti stanno in perfetto equilibrio e questo è un punto di forza. Ribadiamo che l'amministrazione comunale, l'abbiamo già detto in diverse circostanze, non aumenterà le tasse, le imposte di nessun tipo e questo è un fatto importante nonostante i trasferimenti che vengono man mano diciamo sempre meno. È chiaro che ci sono state delle riduzioni da parte di alcuni settori, lo sport, la cultura ma anche alcuni altri settori proprio per far quadrare i conti ma il Comune rimane sempre un Comune virtuoso e paradossalmente mentre gli altri anni i Comuni ricevevano trasferimenti da qualche anno in questa parte invece il Governo ha creato un fondo di solidarietà per i Comuni dove il Comune, si ammetto, deve versare allo Stato 5 milioni di euro i quali poi vanno distribuiti per i Comuni più poveri. Quindi siamo contenti da una parte che è un Comune virtuoso ma dall'altra soffriamo ogni anno a tagliare sempre poi in quei settori che già soffrono. Quindi nonostante un momento di tagli e di trasferimenti dallo Stato centrale il Comune esame comunque regge l'impatto con la crisi? Sì, regge perché è un Comune virtuoso, un Comune che è stato sempre attento, è un Comune che vede i conti giorno dopo giorno e quest'anno ci siamo prefissi come lo scorso anno di fare la lotta all'evasione tributaria. Quindi c'era un tavolo proprio oltre a dipendenti ma anche a qualche amministratore proprio per controllare trimestralmente e monitorare proprio le entrate e quindi anche coloro che purtroppo non versano il dovuto. Da San Benedetto ad Ascoli il Comune promette battaglia a poste italiane. Nella giornata di ieri è arrivata la rengola comunicazione da parte della società che gestisce il servizio postale in Italia della chiusura a partire dal 7 settembre prossimo dell'ufficio postale di Venagrande. A tal proposito l'amministrazione effettuerà l'impugnazione al TAR dell'atto sopracitato. Effettueremo un'impugnazione al TAR contro questo provvedimento, afferma ancora il sindaco di Ascoli Guido Castelli. È un atto dovuto nei confronti di tutti i cittadini di Venagrande che non possono e non devono essere privati di un servizio così importante. E rimaniamo ad Ascoli. Il Consiglio Comunale si è incentrato su un tema molto sentito, ovvero la TAR, il sindaco Castelli ricorda come ad Ascoli sia stata mantenuta finora abbastanza bassa, di perere contrario l'opposizione che invece ricorda la bassa percentuale di raccolta differenziata in città. Vediamo. Intenso Consiglio Comunale ieri ad Ascoli. La seduta si è aperta con il sindaco Castelli che ha annunciato l'immediato ricorso contro la decisione delle poste italiane di chiudere lo sportello di Venagrande a partire al 7 settembre prossimo. Inoltre il primo cittadino ha annunciato che il prossimo 23 luglio il nuovo palazzo Sgariglia vedrà la luce. Poi si è parlato di rifiuti con Castelli che ha definito la valle della morte dell'Alto Bretta, una zona dove si stanno conferendo i rifiuti una volta destinati a Reluce. Anche lì stanno sorgendo infezioni e malattie con il percolato presente. Si dovrà intervenire, prosegue il primo cittadino, anche perché la getta non è adatta a sostenere un elevato carico di rifiuti. Il consigliere PD Castiglia che sottolinea come Ascoli sia ancora molto lontana dal 65% di raccolta differenziata. Non è stato fatto un cronoprogramma sufficiente. Sull'argomento interviene anche il collega di partito Francesca Meli che sottolinea che non capiamo ancora qual è il collegamento tra l'aumento della Tari e la sesta vasca. Si sta soltanto cercando di alzare il tono della discussione per distrarre i cittadini dal vero problema che è l'aumento della Tari. Sulla vicenda interviene anche Andrea Antonini che con durezza afferma che molti qui parlano di un argomento senza sapere abbastanza. A volte è meglio tacere. Anche Massimo Tamburri del Movimento 5 Stelle dice la sua. Dobbiamo capire qual è il vero motivo per cui abbiamo una percentuale così bassa di raccolta differenziata. Sono problemi tecnici o problemi culturali? Castiglia interviene nuovamente affermando che siamo la settima città in graduatoria con la Tari più bassa riscontrata da cittadinanza attiva, una situazione che di certo non è riconducibile a cento-restra. Ma il problema principale è dove si conferirà dopo a Geta? La sesta vasca è una via praticamente obbligatoria. Una rappresentanza di una folta delegazione di giornalisti Etturo Peretor Polacchi, lettoni e svedesi in visita nel Piceno su invito della Vinea ha incontrato ieri a Palazzo San Filippo la consigliera provinciale Valentina Bellini. Si è trattata di una proficua e cordiale occasione, evidenzia la consigliera, per poter illustrare le caratteristiche del nostro territorio e promuoverne l'immagine all'estero, soprattutto in termini di accoglienza e di ricettività. 30 studenti del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto sabato prossimo parteciperanno alla serata in programma per le ore 21.30 alla Palazzina Azzura durante la quale sarà conferito da Alice Ranucci, autrice del romanzo In silenzio nel tuo cuore, il premio Giovane Promessa del panorama letterario nazionale 2015. L'appuntamento è promosso da Mimo Minuto della Bibliofila in collaborazione con l'amministrazione comunale, l'associazione i luoghi della scrittura, la fondazione Bellonci del premio Strega. Nell'occasione i ragazzi potranno conoscere la giovanissima autrice e instaurare con lei e il resto del pubblico un dibattito come già avvenuto all'incontro con il vincitore del premio Strega Giovane, ovvero Fabio Genovesi. Andiamo a Colli del Tronto. Il Comune organizza un concorso fotografico dal titolo Terre a Mare, la bellezza in pericolo per raccontare attraverso le immagini fotografiche il rapporto tra la bellezza dei paesaggi, delle persone, delle tradizioni e poi gli interventi dell'uomo e della tecnologia. Vediamo. È in partenza questo concorso fotografico qui a Colli, è un'iniziativa importante per tutti i cittadini della città? Diciamo che il concorso è rivolto al territorio nazionale, è un concorso importante, è la sua prima edizione, Terre a Mare, si propone di riunire sotto l'insegna del concorso fotografico la sensibilità essenziale all'attenzione del paesaggio, che questo territorio ha sempre fortemente espresso. E quando inizieranno, quando sono le date più importanti da segnalare? Allora, il concorso prenderà il via dal 14 di luglio in poi, che è il termine ultimo entro cui devono pervenire inderogabilmente le foto che parteciperanno. La giuria si riunirà ed elaborerà appunto la sua valutazione, che verrà resa nota il 29 di luglio. L'apertura e la premiazione delle immagini in concorso avverrà il 2, domenica 2 agosto, e dal 2 al 15 ci sarà l'esposizione permanente nella sala del nostro polo museale. Quindi è un'iniziativa importante per valorizzare il territorio, ma non solo? Assolutamente sì, è un'iniziativa per valorizzare il territorio, per ribadire che questo territorio deve essere il volano nella sua particolare specificità di bellezza e di ricchezza, sia ambientale che di tradizioni, di tutta l'economia. E per sottolineare come l'uomo in molti casi abbia un effetto invasivo estremamente devastante, e questo è quello che vediamo non solo sul territorio marchigiano, ma su tutto il territorio nazionale, ed è la ragione per cui abbiamo voluto dare a questa iniziativa una valenza appunto nazionale. E Matteo Di Luzio è il vincitore di Estemporanea Arte 360 gradi, concorso organizzato dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno nell'ambito del Festival dell'Appennino che si è svolto il 4 luglio a Forcella, una prima che ha certamente riscosso il favore del pubblico del festival, ma che soprattutto si è rivelata un evento di ampio respiro nazionale e internazionale dal momento che dei 23 partecipanti al concorso, due provenivano dal Regno Unito. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Vi ringraziamo per la cortesa attenzione, vi diamo appuntamento a domani alle ore 14 per il G News, alle ore 19 per la seconda edizione del G News, alle 19.30 per il G News Piceno. Arrivederci. Grazie a tutti.